Allora, presentazione quella classica, standard, che facciamo sempre. Allora, l'IT è nato dalle passioni, insomma, che abbiamo sui quattro in comune, io specialmente per il Giappone, la musica, il nostro economics materia per i fumetti, i manga, e anche il nostro magico... Che direi che oggi non parlerà perché devo stare a riprendere. Per l'animazione generale e l'ingegner B per tutto quello che è, lui è videodunico, quindi tutto quello che è, e abbiamo cercato, cercavamo un modo per chiamare un programma che riunisce tutte quante le nostre passioni. E noi diciamo, ma come lo chiamiamo, come lo chiamiamo? Insomma, a un certo punto siamo accorti che c'era questo linguaggio, proprio il LIT, un linguaggio particolare usato soprattutto dalle appassionati di internet, computer e quant'altro,